Allà è al di là del tempo e dello spazio. È ovunque, in ogni momento. Lui crea e sceglie chi vuole. Ascoltatemi! Secondo te questa cosa è successa per davvero? Non gli credi neanche tu, vero? Vuoi soltanto aiutare le persone, fare beneficenza, nient'altro. Ma sappi che tutto questo bene attirerà anche molto male. Gli credo e basta. Quell'uomo ha un potere divino. Ma ti prego non lasciarmi da solo. Fammi sentire la tua presenza. Stai bene, figlio mio? So che sono stato strano in questi ultimi giorni. Io e te non siamo amici. Dimmi cosa che ti preoccupa. Allà... Lui parla con me. Dimmi che sei. A quale gruppo appartieni. L'unico per cui io lavoro è Allà. Per me è Ghiokan di Cirgui. Quindi Allà ha messo in pausa le sue faccende per dirti quello che sarebbe accaduto. Capito bene? Ha capito bene. Per me è Ghiokan di Cirgui. ... Per me è Ghiokan di Cirgui.